Exoraptics, benvenuti oggi siamo qui con questo nuovissimo arrivo Open Corsa allestimento Design & Tech Notiamo subito sulla parte anteriore i fari ad eco led Passando invece alla parte laterale cerchi in lega da 16 pollici color nero particolarità di questo allestimento è una vettura che misura circa 4 metri di lunghezza e 1,77 m di larghezza Passando alla parte posteriore notiamo bagagliaio all'apertura manuale abbastanza ampio e capiente Nella parte posteriore abbiamo sedili in completa staffa attacchi Isofix sia a sinistra che a destra vetri elettrici posteriori Nella parte anteriore abbiamo cruscotto completamente digitale di ultima generazione schermo touch con possibilità di CarPlay, Android Auto e Bluetooth ovviamente climatizzatore automatico con aria condizionata Cambio manuale a 5 marce Comandi al volante eventualmente anche con cruise control e limitatore di velocità Si tratta di un'avventura immatricolata nel 2022 che ha percorso solamente 20.000 km motorizzazione benzina con 75 caboli Trovate queste e moltissime altre nodo offerte sul nostro sito Exorantics Grazie per avermi attenzione! Grazie a tutti.